Non comprendo, sta succedendo una cosa incredibile qua, abbiamo delle ospiti, delle ospiti importanti che vengono da molto lontano, che saranno qua con noi ragazzi, a questa serata dei single ma chi è questa, guardate ragazzi, questa ospiti rosa, che meraviglia, e quest'altra, che meraviglia queste dame, ehi, tutta mascherata, con un Shisaki, ehi, con un'altra, e vai, che meraviglia ragazzi, what's incredible, that's, vai, ehi, che meraviglia queste dame, guardate che belle, sono bellissime, quanto mai mi capiterà più, vedete le dame così, chi ci sarà sotto questa conga, c'è il corteggiatore seriale qua sotto, questa invece è riconoscibile, è un ehi, che roba, questa è troppo originale, anche questa, wow, con due denti, ehi, ora, si, non vi capiterà mai più, mai, fermo lì, guarda là, ancora, ancora, si, ancora, vai, perfetto, e vai, falle ballare adesso, dai, e adesso gli fate fare un bel bambino ragazzi, abbiamo due volontari, dai, due volontari, perché uno faccia il video e uno faccia la diretta, hanno fatto il video, vai, prendete l'aria, vai, andrà, la media è solo, vai, fatti il video, no, non lo stai facendo, e stia facendo l'aria,namori ballare, e stia facendo l'aria, a fare un pony, Raffaele, leggi le informazioni della pagina, c'è scritto tutto, devi mandare solo un whatsapp e si apre il mondo per te. Raffaele, leggi le informazioni della pagina, c'è scritto la pagina, c'è scritto la pagina, c'è scritto la pagina. Raffaele, leggi le informazioni della pagina, c'è scritto la pagina. Dio, no, vengono, vengono, bellissime. Viglio, viglio! 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 Viglio!